Massimo Ordo resta in attesa di una chiamata del Pescara ma nelle ultime ore si è fatta strada un'ipotesi a dir poco clamorosa e che risponde al nome di Zdenek Zeman. Le voci su un contatto con il tecnico Boemo si rincorrono dalla mattinata e nelle prossime ore potrebbe esserci maggiore chiarezza. Oddo chiede un contratto biennale di un progetto a più ampio raggio. Zeman si accontenterebbe anche di firmare un contratto della durata di un solo anno. Alla società pescarese aspetta dunque decidere con il tempo che stringe e con i vari pecchia di biaggio e sottile che sembrerebbero oggi più lontani dalla panchina del Delfino. Al massimo entro domani mattina il Pescara dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Intanto sabato al Delfino Training Center inizierà la preparazione di Fiorillo e compagni che lavoreranno nell'impianto di Marina di Città Sant'Angelo fino al prossimo 20 settembre. Al momento sono 21 i calciatori convocati per il ritiro. Il programma del primo giorno prevede al mattino esami tamponi e sierologici presso il centro sportivo e a seguire una seduta di allenamento e pranzo presso l'Ecotel. Nel pomeriggio sistemazione presso l'albergo e poi seduta di allenamento che potrebbe e dovrebbe essere diretta dal nuovo allenatore.